Ciao a tutti ragazzi sono sempre io MCOPS e bentornati nel mio canale Come potete ben vedere siamo qui di nuovo su Call of Duty Ghost Ma volevo iniziare questo video scusandomi profondamente con tutti voi Perché vi avevo promesso che avrei pubblicato un gran numero di video al rientro delle vacanze E invece siamo qua il 17 gennaio e non ne ho pubblicato ancora nessuno Questo volevo dirvi che è dovuto al fatto che la scuola mi sta prendendo moltissimo Si sta avvicinando alla fine del quattrimestre ormai è alle porte Per cui non ho avuto un secondo di respiro e non ho avuto neanche il tempo di poter accendere il computer Oggi siamo qui su Call of Duty Ghost Un video un po' diverso dal solito perché comunque non è un commentary Non è una partita fatta in multiplayer ma bensì è una partita fatta insieme ai miei fratelli Quindi in compagnia di mio fratello In una nuova modalità, nuova per me magari c'era già Perché comunque oggi è arrivato un aggiornamento di Ghost E non vorrei che l'avessero aggiunto proprio in questo Però questo non lo so perché comunque il changelog dell'aggiornamento non l'ho ancora letto Questa modalità si chiama Salvaguardia E ricorda moltissimo la modalità sopravvivenza di Modern Warfare 3 Questa a differenza delle modalità sopravvivenza al posto della quale in Ghost troviamo la modalità estinzione Questa modalità la possiamo trovare tra le modalità speciali che troviamo quando si va ad effettuare una partita privata Quindi con i bot o con i propri amici In questo caso stavo giocando in compagnia di mio fratello Questa modalità ricorda moltissimo la sopravvivenza di Modern Warfare 3 Perché comunque la struttura generale è quella Il tipo di sfida, se così la possiamo chiamare È quella, infatti si combatte contro delle ondate di nemici Che diventano sempre più difficili Purtroppo una pecca di questa modalità è che non è infinita come sopravvivenza Ma una volta arrivati alla ventesima ondata si vince contro le truppe dei nemici E il tutto finisce Questa modalità però a differenza di quella di Modern Warfare 3 Non possiede soltanto lati negativi Ma bensì una cosa che secondo me mancava alla modalità di Modern Warfare 3 È la dinamicità Infatti in Modern Warfare 3 bastava camperarsi in un punto Vabbè sì c'era quella ondata magari una volta ogni 2-3 ondate In cui bisognava andare verso il computer portatile Per comprare una nuova arma oppure comunque per ricaricare le munizioni In questa modalità sono state introdotte un po' di cose Che la rendono un po' più frenetica Infatti una volta intrapresa la partita Una volta iniziata la partita Ci vengono forniti sparsi per la mappa Una serie di casse, una serie di approvvigionamenti Grazie alle quali potremo ottenere appunto Delle ricompense che potremo trovare in una qualsiasi partita multiplayer Negli approvvigionamenti come ad esempio l'ind, il vultur, le torrette, l'ims e via dicendo Un'altra cosa simpatica è che ogni fine di round o verso la fine del round Ci vengono forniti dei rifornimenti Questi rifornimenti sono tre casse che vengono rilasciate da degli aerei Come negli approvvigionamenti nel multiplayer A caso in giro per la mappa Come potete ben vedere adesso ne sto andando a raccogliere una Grazie a queste casse potremo sia ottenere nuove armi Sia ottenere dei perk, quindi non so Estrazione rapida ad esempio, una così a caso Oppure ricaricare le munizioni Questi cambi si possono effettuare almeno su PC Con un doppio clic sulla F Quindi che switcha da una... Quindi grazie a questo switch si può scegliere che cosa prendere Un'altra cosa molto simpatica è che durante la battaglia Durante lo svolgersi di questa sfida Le armi aumenteranno di livello in base a quanti nemici uccidete Quindi più nemici uccidete più l'arma salirà di livello E quindi più sarà potente e più vi renderà facile l'uccisione dei nemici Tutto sommato questa modalità in conclusione mi piace molto La consiglio, è molto di molto divertente da giocare in compagnia Infatti vabbè io in questa partita che era durata originariamente Una quarantina di minuti, 45 minuti se non mi sbaglio Appunto perché siamo arrivati alla ventesima ondata e l'abbiamo finito Sono stato rianimato per fortuna solamente due volte Ecco adesso vedete che mio fratello deve correre a rianimarmi E' molto cooperativa Infatti io ci eravamo dati dei ruoli ben istinti Io coprivo la scala là in alto e mio fratello copriva le scale che scendevano Comunque questa modalità la consiglio a tutti Mi piace veramente tanto e penso che la maggior parte del tempo a ghost la passerò qua sopra Però questi sono dettagli Io sono sempre Mechioops Vi do un bacione grosso Ci vediamo in un prossimo video Bella a tutti Ciao 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 Ciao